Benvenuti a Il punto, trasmissione settimanale di approfondimento sui temi di politica e economia dal Centrovirio di Palazzo Cesaroni, sede dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Oggi con noi in studio il consigliere regionale del Partito Democratico, Andrea Smacchi, e il consigliere regionale di Forza Italia, Raffaele Nevi. Buonasera. Entrambi presidenti di commissione, vedremo poi quali e di che cosa principalmente si occupano. Prima però una domanda così di tono generale che riguarda un po' lo scacchiere politico. Parto con lei, presidente Smacchi, perché volevo chiederle. I mutamenti all'interno del PD con delle fuoriuscite, con delle formazioni nuove, una è quella a cui ha diritto Attilio Solinas, del vostro gruppo. Che cosa possono significare? Ci sono dei cambiamenti per quanto riguarda anche la maggioranza di Palazzo Cesaroni, oppure invece è una cosa che state gestendo in un altro modo? Perché non se ne sa molto. No, nessun cambiamento. La maggioranza rimane quella che è conseguente all'elezione del 2015. Le diverse sensibilità all'interno della maggioranza esistono da prima, quindi poco è cambiato. Non so neanche quale sarà poi l'impatto a livello regionale, perché ci stiamo misurando in questo momento in un congresso e i fuoriusciti, tipo Attilio Solinas, dal PD non partecipano a quel congresso. Quindi soltanto nel momento in cui ci saranno le elezioni amministrative o politiche potremmo capire anche il peso dal punto di vista politico-elettorale. I primi dati per quanto riguarda il tesseramento 2016, che si è concluso da poco, dimostrano che c'è un aumento di circa il 30-40% degli iscritti. È vero che è una fase congressuale, ma è anche un bel segnale per quanto riguarda la vitalità e la forza del PD in Umbria. È una risposta soddisfacente, però vorrei sapere anche, vista dall'opposizione, com'è lo scacchiere di Palazzo Cesaroni e che cosa può accadere nel prossimo futuro. Smacchi è un ottimista di natura, viene vede il bicchiere sempre mezzo pieno, io glielo auguro. Non mi pare però che le cose vadano proprio così lisce. Mi pare che ci sia un grosso dibattito all'interno, proprio sulla concezione del partito, sulla linea politica. Quindi vedremo, noi siamo interessati a capire se e come cambierà il partito democratico, anche relativamente alla linea politica da portare avanti nelle regioni, rispetto al tema delle regioni, come affrontare la questione di un equilibrio tra i poteri dello Stato. Perché mi sembra che il governo Renzi sia contraddistinto per aver scaricato sulle regioni tutti i problemi di bilancio che ha invece lo Stato. E quindi questa operazione però alla fine mi pare un'operazione miope, perché il tema è quello di una diminuzione drastica dei servizi al cittadino, e che è anche difficoltà nella gestione dei trasporti pubblici, della sanità, dell'organizzazione delle politiche di settore. Ecco, ormai le regioni su questo devono prendere una strada. Insomma, o facciamo un federalismo di un certo tipo o facciamo un neocentralismo. Ecco, speriamo che questo dibattito all'interno del PD non sia solo su chi fa che cosa, ma anche sulla linea politica. Approfitto adesso della presenza dei consiglieri Smacchi, perché le regioni, pur se in una fase difficile di riconoscimento della propria funzione, con l'Unione Europea stessa che è in discussione, però si stanno ritagliando degli spazi. Su uno di questi lei si è proprio incuneato a rappresentare la regione Umbria alla Camera dei Deputati, dico bene, ecco, del Senato. Comunque Smacchi in Parlamento, in rappresentanza di questa regione, per parlare di programmazione europea. Questo, dico, è una finestra che si apre, che spiragli ci sono, di che cosa avete parlato, anche perché poi alla fine non è che queste sono notizie di vasta diffusione come dovrebbe essere il Presidente Smacchi. Allora, di che cosa avete parlato a Roma? Allora, questa possibilità nasce intanto da una modifica dello statuto che insieme al collega Nevi abbiamo fatto fine 2014, inizio 2015, che dà un ruolo all'Assemblea legislativa, che è il ruolo sia nella fase di formazione del diritto comunitario, sia nella fase di attuazione dello stesso diritto. Proprio in questa fase, relativa alla formazione, sono stato al Senato, al fine di indicare quelle che sono le priorità, per quanto riguarda la regione Umbria, per il piano Juncker del 2016, ma anche per, diciamo, la prossima programmazione del 2017. Noi con forza abbiamo messo sul tavolo le necessità che sono collegate alla ricostruzione post-terremoto. Riteniamo indispensabile avere un collegamento diretto, quindi non soltanto la Giunta, ma anche l'Assemblea legislativa con il Parlamento europeo. Ricordiamo che nei prossimi giorni verrà anche il Presidente del Parlamento europeo, l'On. Tagliani. Quindi, da questo punto di vista, veramente abbiamo gli strumenti e un filo diretto. È anche vero che, come per tutti i terremoti, sia quello del 79, sia quello del 97, vogliamo associare alla ricostruzione un grande piano di rilancio della nostra regione. Nel 97 abbiamo pensato ai servizi, quindi le reti del metano, gli acquedotti in Valnerina. Scusate, nel 79. Nel 97 abbiamo associato alla ricostruzione un grande piano per le infrastrutture, quindi penso alla Quadrilatero e all'accesso al mare Adriatico con la Foligno Civitanova e la Perugia Ancona. Oggi c'è necessità, invece, di un grande piano di rilancio della nostra economia, in particolare quella che soffre di più in questa fase, cioè turismo, economia dei servizi e commercio. Senta, ma insisto, la Perugia Ancona, appena inaugurata, ha già qualche piccolo problema. Ce ne sono tanti altri problemi, ne cito uno solo, il nodo di Perugia riguarda la circolazione di tutta l'Umbria, chi viene da sud e chi viene da nord. Allora, sono questioni ancora aperte, cioè è una priorità assoluta, considerando anche i problemi che ci sono per la ferrovia, con la ferrovia centrale Umbra che è spezzata e si sale in pullman, con un altro pezzo che sarà chiuso per l'elettrificazione di cui si parla da 15 anni, finalmente pare che ci siamo, però insomma la gente vive tutto questo come un po' un caos, no? Cioè bisogna dare ancora una spinta, il ruolo della regione è tutt'altro che finito, perché sì, le strade ci sono, è vero, si arriva al mare velocemente, però ci sono un sacco di problemi, gallerie, no? Tanti aspetti ancora sul tavolo da chiarire, da migliorare. Guardi, su questo il governo e la regione stanno facendo uno sforzo straordinario, sono pronti 52 milioni di euro per la viabilità anche alternativa della Valnerina. C'è un intervento straordinario sulla E45, nell'ambito del quale ci sono le risorse anche per il nodo di Perugia, almeno per una parte del nodo di Perugia. Ci sono circa 51 milioni di euro messi a disposizione, sono fondi comunitari, per quanto riguarda la manutenzione e la messa in sicurezza della FCU. Ma secondo me non basta, guardi, noi dobbiamo rendere questa opportunità del post-sisma proprio per questo grande piano di rilancio. E un piano di rilancio della nostra regione non può fare a meno di infrastrutture ad alti livelli, fra i quali anche l'aeroporto, che non abbiamo in questo momento citato. Perché è su questo che dobbiamo insistere, dobbiamo drenare alcune risorse che in questo momento sono a disposizione, e il Governo ce l'ha messo a disposizione, sia come finanziamenti dell'Unione Europea, per non metterli nel momento in cui dobbiamo compartecipare i finanziamenti che ci vengono messi a disposizione, sia come risorse proprie del Governo centrale. È indispensabile per fare un salto di qualità e per creare anche una viabilità che sia una condizione di base per il rilancio socio-economico. Nevi, cose da fare ancora tante, sicuramente turismo chiave di rilancio, perché il post-sisma non è solo la ricostruzione degli edifici e delle infrastrutture, ma anche il riportare la gente. Qualche cosa già comincia a muoversi, però tantissimo resta da fare sul convincere le persone, soprattutto che non c'è stato il terremoto a Perugia, non c'è stato a Terni, non c'è stato a Città di Castello, non ci sono timori nel visitare le nostre città, e riprendere in mano la questione del turismo, perché qui oltre ai turisti, alle disdette, perfino le gite scolastiche non transitano più nella nostra regione, c'è proprio da ripartire da zero, ricostruire oltre alle case proprio anche la mentalità e il modus vivendi di questa regione. Sì, devo dire che abbiamo fatto un buon consiglio regionale sul tema dei danni indiretti all'industria turistica, che è forse la più colpita dal terremoto e dai suoi effetti nefasti, che hanno colpito anche a causa di una colpevole comunicazione da parte dei media, l'intera regione, non solo le zone colpite direttamente. Adesso abbiamo fatto questa risoluzione, però come al solito il problema è l'attuazione delle risoluzioni, perché qui parlo anche nella mia veste di Presidente del Comitato di Monitoraggio sull'attuazione degli atti della giunta regionale, c'è un problema gravissimo di attuazione di leggi, di regolamenti e soprattutto degli atti che vengono fatti dal Consiglio regionale. Cioè vedo una giunta regionale completamente ferma e troppo lenta rispetto a una risposta che invece dovrebbe arrivare in tempi molto ma molto più rapidi, non solo sul tema del turismo, ma su tante altre questioni sulle quali si continua solo a rinviare il tema dei rifiuti, il tema dei trasporti, il tema dell'organizzazione delle infrastrutture. Ecco, cioè da una parte vedo una grande staticità nel lavoro quotidiano e dall'altra vedo un peso assolutamente insignificante della nostra regione sul tavolo nazionale. Cioè questo è un problema che ormai è chiarissimo rispetto a qualche anno fa, mi ricordo la Presidente Lorenzetti insomma riusciva a incidere molto di più sulle scelte del governo anche in tema di infrastrutture. La Perugia Ancona è frutto di quegli anni, la Foligno Civitanova, l'organizzazione della viabilità appunto nel Folignate, il pezzo della Trevalli, cioè insomma negli anni passati con tutte le critiche che si potevano fare, insomma lo Stato italiano, il governo italiano ha investito molto anche grazie tra l'altro al governo Berlusconi. Non dimentichiamo che la Quadrilatero è stato il frutto di una scelta fatta in quegli anni, la legge obiettivo tanto criticata, oggi ce ne fossero insomma nel senso che qui siamo allo zero assoluto. Ecco su questo i treni, tutto il sistema trasportistico, il tema del collegamento Ancona-Cività Vecchia, insomma l'asse ferroviario, l'asse viario, il collegamento a Lazio, alla zona del mare, cioè insomma siamo fermi su tutto e l'Umbria ci sta un po' morendo sotto le mani, insomma. Ecco quindi su questo noi continuiamo a spingere, a cercare di stimolare la Giunta a fare di più e purtroppo c'è un grave problema appunto di lentezza rispetto a una risposta che deve essere molto più rapida. In quella risoluzione che abbiamo dato all'unanimità in Consiglio regionale, che è stato un fatto molto importante sui danni indiretti del terremoto, c'è scritto che la Regione deve provare a costruire una azione che è quella di diminuire l'IRAP parte regionale per le imprese particolarmente colpite dal terremoto. ci si riferisce soprattutto all'industria del turismo ma anche al commercio, all'artigianato artistico per esempio. Ecco si potrebbe fare un intervento mirato su questi settori ma è passato un mese e non se ne sa nulla da quello che ho scoperto ieri, nemmeno hanno cominciato a studiarla la cosa. Ecco nel frattempo quando usciamo dal palazzo troviamo il commerciante, l'artigiano, l'albergatore, il ristoratore che ci dicono fate qualcosa, fate qualcosa in fretta perché qui fra poco cominciamo a finire tra l'altro gli strumenti a disposizione, cassa integrazione dobbiamo passare al licenziamento di tante persone, significa altri problemi sociali, significa famiglie in difficoltà. Ecco su questo la nostra critica è molto forte perché non c'è il passo giusto. Ricordo agli ascoltatori e ai telespettatori che non è solo una critica politica, lei come Presidente del Comitato di Monitoraggio ha scritto una lettera a tre assessori su quattro chiedendo spiegazioni su 11 ordini del giorno, 4 mozioni e 6 risoluzioni approvate in aula. È arrivata qualche risposta? Ancora nessuna risposta però io le risposte già le so perché li conosco quegli atti e quindi questa sarà una risposta ufficiale ma purtroppo c'è una totale, quasi totale mancanza di attuazione di quello che dice e che fa il Consiglio regionale, attenzione non che fa l'opposizione e che dice l'opposizione perché su questo dice vabbè. No, che dice il Consiglio regionale all'unanimità oppure a maggioranza e quindi è anche rispetto alle indicazioni che dà la stessa maggioranza di governo, quindi siamo in presenza di un fatto molto grave che tra l'altro ci dice anche un'altra cosa che la Giunta regionale se ne infischia il Consiglio regionale che è una cosa che purtroppo anche a livello istituzionale non dovrebbe accadere perché il Consiglio regionale è comunque un organo che viene eletto direttamente dal popolo e che rappresenta le istanze degli Umbri. Allora vedo strisciante anche nelle riunioni del Consiglio regionale una certa insofferenza verso tutto quello che dice e che fa il Consiglio regionale e questo è una novità assoluta, negativissima secondo me e che speriamo anche la maggioranza riesca un po' a tamponare perché altrimenti il rischio è che questo venga percepito come sostanzialmente un ente inutile perché se tutto quello che diciamo e che facciamo non viene minimamente preso in considerazione da chi ha la responsabilità di governare è chiaro che diventa inutile anche riunirsi e fare dibattiti, fare risoluzioni unitari e quant'altro. I prossimi giorni vedremo se funziona, allora la funzione è proprio di stimolo con questa sua azione. Torno al Presidente Smacchi naturalmente per chiedere la sua opinione anche su questo ma poi Nevi ha citato il problema del lavoro. Il lavoro è una fissa nella azione politica dei consiglieri Smacchi perché partì con la Merloni anni fa e dell'altro ieri la Tecno Wind di Fabriano perché parliamo poi di una zona, questa tra Umbri e Marche, che non è che sia un'azienda di Fabriano quindi problemi delle Marche ma problemi di decine e decine di Umbri che vanno a lavorare nelle Marche. L'ultima è la Tecno Wind su cui lei ha alzato proprio il vessillo a richiamare l'attenzione, ma questa è un'emorragia che non si ferma. Cioè l'errore dove è stato? A monte nella strategia di affidare le aziende in un certo modo oppure c'è margine di intervento? Io vedo che lei alza la voce quindi c'è modo ancora di intervenire per salvare posti di lavoro, per cambiare una situazione industriale che è molto deficitaria. Sì, io credo che non possiamo parlare di un rilancio della nostra regione e dei vari settori se non ripartiamo dal lavoro, dall'occupazione. Questo ormai da tempo è un problema, noi cerchiamo di affrontarlo in vari modi, ma allo stesso tempo ci sono territori più penalizzati di altri. Quello della fascia appenninica non riesce a rialzare la testa purtroppo e non riesce neppure in conseguenza dell'apertura della Perugia Ancona, che di fatto anche nella parte marchigiana verrà completata ad ottobre di quest'anno, quindi avremo entro l'anno un'intera tratta a quattro corsie che va da Perugia sino al capoluogo di regione della regione Marchi. Perché mi soffermo su quel problema della fascia appenninica? Perché là, ad esempio, lei ha citato la Tecnowind, abbiamo un'azienda di altissimo livello che fa cappe per cucina, anche a livello tecnologico innovative, che però per problemi di gestione finanziaria non riescono più a stare sul mercato e in questo caso ci sono circa 600 dipendenti, tra diretti e indotto, che hanno occupato l'azienda e che non riescono ad avere una prospettiva. Di questi 600, circa il 10% sono lavoratori umbri, quindi della zona di Gubbio, Gualdo Tadino, Fossato di Vico e così via. Questa emorragia continua senza nuove possibilità, malgrado l'accordo Merloni, malgrado che è possibile fare investimenti sino al 75% coperti dal pubblico, cioè malgrado tutto questo, questi strumenti, anche quella lentezza di cui parlava il consigliere Nevi fa sì che si perde la fiducia e non ci siano più prospettive di rilancio e quindi anche di presenza da parte di chi ci vive. Allora cosa fare? Perché poi alla fine insomma siamo sempre lì. Intanto io penso che quella zona debba essere riprogrammata, nel senso che bisogna fare degli investimenti ad hoc per far sì che possa aprirsi una nuova fase, una nuova stagione. La metalmeccanica è in parte superata, il discorso degli etrodomestici è in parte superato, Porcarelli sta ancora aspettando per quanto riguarda il discorso Merloni dalle banche il via libera per poter fare i suoi investimenti, ma Porcarelli è uno che pensa anche molto per sé. E quindi dopo aver occupato l'azienda di Nocera Umbra e quella di Fabriano, pagandola pochissimo visto che gli hanno aperto le porte per farlo entrare, adesso vuole ulteriormente fare un investimento per la propria azienda in particolare, cercando di chiudere un accordo con le banche che faccia sì che possa di nuovo con sua convenienza continuare l'attività economica in quella zona. Allora anche lì va chiuso, fra il Ministero dell'Economia e del Lavoro, fra la Regione e fra le istituzioni convolte, bisogna trovare una via d'uscita. Ad ottobre finisce anche l'ultima fetta di cassa integrazione per quanto riguarda i lavoratori dell'ex Merloni e comincia quella per la GEP che significa la fine della fase finale. Allora basta, dopo sette anni di cassa integrazione sono tutti stufi, anche gli stessi lavoratori, perché non si vive di cassa integrazione? Tutti coloro che non ce l'hanno hanno quasi un senso di rivalsa per chi ce l'ha, perché dicono è sette anni che vi manteniamo, ormai basta, no? Allora se ci sono prospettive, bene, se non ci sono prospettive, basta, dobbiamo trovare un'alternativa e proprio la mancanza di questa alternativa ci sta comportando una situazione di tensione sociale che difficilmente potrà essere gestita se non chiudiamo entro l'estate il discorso ex Merloni, quindi porcarelli con l'accordo con le banche. E' questo l'auspicio che io oggi faccio qui dicendo che il 10 aprile la seconda e la prima commissione saranno presso lo stabilimento di Colle di Nocera Umbra per una seduta congiunta a cui è stato invitato il governo ed è stata invitata la giunta regionale ai suoi massimi vertici al fine di affrontare, sperando di chiudere, questa fase ormai interminabile che veramente ci sta fa perdendo credibilità sia come classe politica, secondo me, sia come classe imprenditoriale Umbra. Serve un aiuto anche da Roma però, dal Ministero del Lavoro, cioè bisogna che è un aiuto coordinato quello che serve per risolvere queste faccende? Noi abbiamo invitato chi se ne sta occupando, che è la Vice Ministro, mi sembra, Bellanova, che si sta occupando di tutte le crisi, nonché i funzionari ministeriali. Lei sta cercando di chiudere questo accordo tra banche e Porcarelli che significa riprendere l'attività e quindi fare un piano di investimenti e sulla base di questo piano di investimenti che ancora Porcarelli fa vedere e non fa vedere, le banche devono decidere e il Ministero deve fare da garante, è questa la chiusura del circhio e su questo la Regione Marche e la Regione Umbria devono mettere la faccia con forza sbattendo anche le mani sul tavolo. È due anni che sta andando avanti questo discorso chiusura o non chiusura dell'accordo con le banche, ma basta, quando basta poi veramente non siamo più credibili. D'accordo, due parole anche su un'altra zona critica, quella di Terni. La settimana scorsa la commissione intera si è trasferita a Terni, la seconda, lì si parla di tante cose, di lavoro, di problemi legati alla produzione industriale ma anche e soprattutto ultimamente di qualità della vita e dell'ambiente. Ecco, il problema è che oggi, dopo una serie di riunioni eccetera, è venuto fuori quello che diciamo dai cinque anni. Questa è la cosa brutta, nel senso che quella situazione dell'ambiente, della salute della concaternana va studiata nel profondo, va capita nel profondo e vanno costruite delle politiche per cercare di fare in modo che si innalzi la qualità dell'aria, dell'ambiente, del suolo, delle acque. Ci abbiamo dei problemi gravi dovuti a che cosa, diciamo? Non è che lo scopriamo adesso, sono cento anni di industria pesante da una parte, c'è un problema relativo all'orografia perché una conca è una conca per definizione, quindi il ricambio dell'aria è inferiore rispetto a una collina, insomma, è elementare intuirlo e quindi a noi, io sto dicendo, da cinque anni che serve uno sforzo eccezionale di mettere insieme il Ministero della Salute, il Ministero dell'Ambiente, Regione, istituzioni locali, fondazioni bancarie, ASL, tutti i soggetti interessati all'ambiente, alla salute, ARPA e quant'altro e costruire un piano straordinario per fare in modo che si lavori all'innalzamento della qualità dell'aria, dell'ambiente e quindi della salute dei cittadini ternali. Allora questa è una specificità della nostra regione, non mi si può continuare a, come spesso fa purtroppo il nostro governo regionale, a considerare il tema di Terni come quello di altre zone dell'Umbria, si parla spesso di Corciano, Foligno, ma insomma stiamo scherzando, lì c'è un problema che è enormemente diverso, è enormemente purtroppo più grave rispetto ad altri e quindi c'è bisogno che la regione faccia un focus e poi c'è bisogno anche che le multinazionali presenti a partire dall'acciaieria si occupino un po' più di questo argomento e siano anche spinte dalle istituzioni locali a investire magari anche qualcosa in più per cercare di aiutarci a recuperare, a superare questo problema che c'è e che rintracciamo in tutte le analisi che poi vengono fuori, insomma dal cromo esavalente, tetravalente, cioè sono tutte cose che derivano da una metallurgia pesante che c'è stata nei cento anni passati. Allora su questo la città di Terni si sente abbandonata e io auspico questa volta l'occasione data da questo famoso provvedimento autorizzatorio relativo a uno dei due inceneritori attualmente attivi nella concaternana che questo elemento ulteriore che viene avanti faccia finalmente smuovere un po' il governo regionale. Sembra che appunto c'è stata l'autorizzazione però mi viene da ridere perché operiamo con 3, 4, 5 anni di ritardo e questo è il tema. Comunque meglio tardi che mai si dice ma insomma adesso la regione sembra che ha dato il via libera alla ASL per costruire un'indagine epidemiologica seria, cioè per capire bene qual è la realtà, quali sono gli inquinanti, come si può poi cercare di diminuirli attraverso un piano straordinario che preveda anche delle risorse. Ecco noi abbiamo fatto l'area di crisi industriale complessa perché lì la spinta del sindacato CGL in primis è stata molto forte e quindi il governo regionale si è mosso perché quando si muove la CGL ci si muove di conseguenza. Ecco ma cioè i cittadini ternani e la salute sono temi ben più importanti di questo perché a Terni se c'è un problema vero non è la crisi dell'industria che pure è in crisi come in tutte le parti d'Italia, la grande purtroppo depressione che c'è stata a livello nazionale, a livello europeo, a livello mondiale e certamente si ripercuote anche sulla nostra città ma insomma il tema della salute e dell'ambiente è un tema purtroppo molto più grave di quello della crisi dell'industria tant'è vero che oggi assistiamo, io l'altro giorno sono stato felicemente ospite della azienda Alcantara che annuncia 300 milioni di euro di investimenti. Quindi ecco tanti problemi ci sono ma il problema principale nostro è sicuramente quello della salute e dell'ambiente e su questo io spero che il Presidente Brega la settimana prossima arrivi con una proposta come ha promesso di risoluzione unitaria del Consiglio regionale e spero che si faccia una risoluzione unitaria mettendo per iscritto precisamente quello che deve fare, dovrebbe fare finalmente la giunta regionale però ecco che la risoluzione sia poi attuata in tempi rapidi perché se no siamo sempre al solito discorso che scriviamo tante belle parole e poi la gente si rende conto che non cambia mai nulla. Presidente Nevi una risposta accorata e non ne avevo dubbi ma la conclusione la voglio riservare al Presidente Smacchi anche se siamo nei limiti di tempo ma anche lei Presidente su questo argomento che riguarda ormai non solo Terni diciamo sono un problema Umbro se una parte così importante non va bene no? Sì assolutamente ma guardi adesso a prescindere dal ruolo di entrambi io credo che su questo ci sia una univocità per quanto riguarda gli obiettivi. La giunta ha detto no a nuovi inceneritori con riferimento alla situazione di Terni che è l'unica città che ha due inceneritori autorizzati in tutta l'Umbria. La giunta ritiene di dover fare un approfondimento credo che questo sia legittimo e sia anche un atto di sensibilità importante. A questo punto sulla base di questo approfondimento il sindaco come autorità sanitaria potrà avere gli strumenti anche per sospendere o interrompere l'autorizzazione AIA in corso. Credo che siano questi i passi che devono fare le istituzioni per quella fiducia e per quella rappresentanza che loro hanno rispetto ai loro cittadini. Perfetto la ringrazio Presidente Smacchi ringrazio anche il Presidente Raffaele Nevi che sono stati i nostri ospiti grazie anche a voi per la vostra attenzione appuntamento alla prossima settimana.